e buona prima ragazzi sono Terry con le mani sempre sono qui insieme e sempre subito manager anche quest'oggi andremo a realizzare una tattica che ha funzionato molto bene all'interno di fm 22 ovvero il 4132 invincible che sono andato a testare con il manchester city come già accennato in uno dei precedenti video il 4132 è un modulo che non so per quale motivo funziona molto bene all'interno di fm 22 ed è uno anche dei migliori che ci sono però quello lo andremo a vedere più avanti nel corso del video come sempre la prima cosa che andiamo ad analizzare sono le statistiche dei calciatori che ci dicono che harling goland è il capo canoniere della squadra con bene 66 gol fatti per lui 49 presenza titolare 4 dal subentrato 66 gol e 8 assist con un xc pari a 51,43 in premiera ha segnato la bellezza di 42 gol si è ottenuto il voto medio più alto è sergio gomez con 7,84 di media voto si è ottenuto il maggior numero di assist è sempre sergio gomez con bene 32 assist in stagione per lui 44 presenza titolare 10 da subentrato 4 gol e 32 assist si è ottenuto l'amido percentuale di passaggi completati a john stones con il 96 per cento si è stato letto più volte uomo partita è holland con 17 primi vinti si è ottenuto il maggior numero di ammunizioni sono cansello rodri con 13 ammunizioni a testa e non compaiono espulsioni la prima liga è stata vinta per un punto contro liverpool 92 punti per noi e 91 per loro 28 vittorie fatte un meno del liverpool 8 pareggi ben 4 in più del liverpool e due sconfitte ben 3 in meno del liverpool 107 gol fatti e 33 subiti siamo il miglior attacco ma non la miglior difesa però abbiamo la miglior differenza reti ovvero 74 con i 60 come vedete la classifica capo canoniere è stata vinta da holland staccando di bene 16 gol cristiano ronaldo giocando anche meno partite perché in totale ne ha fatte 34 holland tra una donna fate 37 quindi un gol ogni 65 minuti per quanto riguarda le altre competizioni oltre aver vinto la premier vinciamo la champions in finale contro il liverpool in fk usciamo il quinto turno contro il celsi la carabao cap la perdiamo in finale così come parliamo la community field la tattica in questione come già accennato prima è un 4 1 3 2 complesso per come è fatto ma semplice per tutta la parte tattica richiesta in porta abbiamo un portiere libero con i compiti difensivi senza istruzioni adiuntive i laterali bassi sono due fluidificanti con i compiti di attacco tutti e due con le stesse istruzioni ovvero giocare più stretto fare contrasti più duri e marcare più stretto i due difensori centrali sono due difensori che impostano con i compiti di attacco e due con le stesse istruzioni ovvero derivare di più stare più largo e marcare stretto il vertice basso è un mediano o centrocampista difensivo chiamatelo come volete con i compiti di supporto io qui ad esempio ci aver messo con i compiti difensivi perché poi tutti i tre centrocampisti si vanno a staccare comunque come istruzioni a quali derivare di più fare contrasti più duri e marcatura stretta il regista della squadra un regista mobile ovvero il regista che tende a muoversi in tutto il campo andando a fornire anche superiorità numerica e gli ultimi palloni come istruzioni aggiuntive a quali derivare di più muoversi negli spazi fare contrasti più duri e marcare stretto a supporto del regista mobile c'è un cc con i compiti di attacco che ha come istruzioni quali di correre più rischi e fare contrasti più duri e una mezzala d'attacco che ha come istruzioni aggiuntive quali di crossare più spesso derivare di più fare contrasti più duri e marcare più stretto doppia punta formata da falso 9 con i compiti ovviamente di supporto che ha come istruzioni aggiuntive quali di fare contrasti più duri e centravanti che ha come istruzioni quali derivare di più e fare contrasti più duri come vedete già in questa zona dove ci sono i gol ovviamente è stato dominato tutto da holan perché gli altri non hanno fatto tanto i 14 gol di julian alvarez che ha fatto il falso 9 13 gol di mares 15 di bernardo sirva che come mezzala sono tanti abbiamo 10 gol di la porta ma poi per il resto non tanti lato tattico composto da mentalità offensiva in fase di possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco abbastanza larga si parte pala tra la difesa lo stile dei passaggi è più corti con un ritmo di gioco altissimo nella tre quarti si fanno cross bassi portando il pallone in area di rigore in fase di transizione abbiamo fare pressing a tutto campo e il portiere la va a lanciare bassa in fase non possesso abbiamo una linea di pressing più alta con una difensiva standard che fa il fuorigioco l'ampiezza difensiva è standard si fa pressing estremo e si impediscono i passaggi corri del portiere la disposizione in campo è la seguente siamo la squadra di sinistra vediamo che è una squadra che tende a sfruttare principalmente le vie centrali del campo perché siamo veramente stretti vediamo che il fluidificante di sinistra rimane molto più alto rispetto al fluidificante di destra perché molto probabilmente si stava attaccando questa zona del campo dettata anche dal fatto che il difensore di sinistra è più alto rispetto al difensore di destra il mediano vediamo che calpesta la linea di centrocampo il regista mobile in questo caso ha stretto un po per vie centrali il cc non se ne è ancora staccato con la mezzala che rimane addirittura più bassa di tutti gli altri due il falso 9 chiaramente deve fare raccordo tra attacco e centrocampo quindi rimane più basso con il centravanti che è già staccato e genera pressing nella sua zona ovvero quella di sinistra in linea generale siamo molto compatti con difesa e centrocampo e siamo come già accennato prima molto ma molto stretti per quanto riguarda il calendario ad agosto vinciamo le tre partite di premier league ma perdiamo la supercoppa inglese ovvero la community shield a settembre abbiamo tre vittorie di cui una in premier una in carabao cup e una in champions due pareggi in premier e una sconfitta in champions ad ottobre abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio in premier a novembre abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio in premier a dicembre abbiamo tutte vittorie tranne due pareggi in premier e una sconfitta in champions a gennaio abbiamo tutte vittorie tranne una sconfitta in Carabao Cup e un pareggio in Premier. A febbraio abbiamo una vittoria in Premier, una vittoria in Champions per ben 7 a 0 contro il Borussia e una vittoria in FA Cup. Poi abbiamo una sconfitta in Premier, un pareggio in Premier e una sconfitta nella finale di Carabao Cup contro il Chelsea ai rigori. A marzo abbiamo tutte le vittorie tranne una sconfitta in FA Cup sempre contro il Chelsea. Ad aprire abbiamo tutte le vittorie tranne un pareggio in Champions e una sconfitta per ben 5 a 1 contro il Leeds in Premier. A maggio invece abbiamo tutte le vittorie, quindi come vedete il rendimento è un po' altalenante, però comunque siamo riusciti a fare bene 92 punti in campionato. Andando con ordine, il cammino in Carabao Cup inizia al terzo turno contro il Bolton Bayern e passiamo per 2 a 1. Al quarto turno superiamo per 4 a 1 il Middlesbrough. Ai quarti di finale superiamo per 3 a 2 il Tottenham. In semifinale battiamo per un 3 a 2 complessivo lo United. In finale perdiamo contro il Chelsea ai calci di rigore. L'FA Cup parte anch'essa al terzo turno contro l'Al City dove vinciamo per 6 a 2. Al quarto turno andiamo a battere per 5 a 0 il Tottenham. Al quinto turno usciamo per 2 a 1 contro il Chelsea. La nostra Champions invece parte nel gruppo F composto da Siviglia, Inter e Club Bruges. Passiamo come testa di serie con 12 punti fatti, 4 vittorie, 0 pareggio, 2 sconfitte, 19 gol fatti e 9 subitti con differenza di 10. Agli ottavi di finale troviamo il Borussia Dortmund e lo travolgiamo per un 9 a 1 complessivo. Ai quarti di finale andiamo a battere per 4 a 1 complessivo il Real. In semifinale troviamo lo Sporting e lo superiamo per un 11 a 2 complessivo. In finale battiamo il Liverpool per tra 1 che ha avuto un crollo incredibile nell'ultima parte di stagione. Tant'è che come vedete perde la finale di FA Cup, perde il campionato e perde pure la Champions League. Per quanto riguarda le lights possiamo vedere il 7 a 2 rifilato allo Sporting nell'andata di semifinale di Champions League. Il primo gol nostro arriva dalla parte di destra con Walker che va a creare superiorità numerica sulla fascia. Poi si creano una sorta di rimpalli in mezzo all'area di rigore e Bernardo Silva è fortunato a metterla in rete. Secondo gol da pallina attiva Stones stacca più in alto di tutti. Lo Sporting trova il primo gol della partita con Giovane Cabral che trova una traiettoria stranissima dopo essere stato innescato in profondità. Terzo gol ancora da pallina attiva con questa volta Laporte. Poi Walker dalla fascia di destra la mette in mezzo, Holland si fa trovare pronto in area di rigore. Continua la nostra furia con un giro palla terrificante dello Sporting e Holland recupera la palla e spacca così la porta. Secondo gol dello Sporting con ottimo giro palla laterale conclusosi per via centrali con Arthur. L'ultimo gol della partita con Walker che trova in mezzo Palmer manda in profondità Holland e supera così il portiere avversario. L'ultimo gol della partita ha che dalla faccia di sinistra triangola con Gundogan e poi trova Walker dalla parte opposta e segna così il 7 a 2. Per vedere un po' di gol subiti possiamo andare ad analizzare la partita contro il Leeds persa per 5 a 1. Passiamo in vantaggio noi ancora da pallina attiva con Ruben Diaz al decimo giro. Da lì in poi c'è il blackout totale con Stuart Dallas che dalla faccia di destra mette in mezzo. Ederson è impreciso e poi anche sfortunato con il rimpello della porta. Poi sempre Dallas dalla parte di destra mette un altro pallone al centro. Ederson completamente a vuoto. Sinisterra sfrutta così la porta vuota. Cancelo sbaglia il lancio in avanti. Adams manda in profondità Sinisterra che trova il gol sul palo più lontano. Il quarto gol del Leeds arriva dalla parte di sinistra con Olivera che la passa a Sinisterra cross in mezzo. Dallas chiude molto bene un gol meritato. L'ultimo gol del Leeds arriva con Bamford che dalla faccia di destra la mette in mezzo. Rodrigo sfugge alla marcatura difensiva e segna così. L'ultima partita che andiamo a vedere è il 3 a 2 vinto contro l'Arsenal in Premier League. Passano in vantaggio i padroni di casa subito al decimo minuto con parte che innesca in profondità Tomiyasu cross in mezzo e Saka chiude molto bene la triangolazione fatta. Poi Odegaard va a mettere il pallone in mezzo e Bukayo Saka trova il gol del raddoppio. Nei minuti finali al 79esimo c'è un ottimo giro palla per due centrali. Holland va a trovare pronto a superare Ramsdale sul primo palo. Pochi minuti dopo Alvarez lancia in profondità Erling Holland che supera ancora Ramsdale e trova il gol del pareggio. Al 92esimo c'è il gol della vittoria con Walker che la scarica a Palmer che trova un ottimo incrocio. Quindi abbiamo visto che è una squadra che probabilmente complice anche il fatto che abbiamo un doppio difensore che imposta perde molto spesso le marcature in area di rigore e permette agli avversari di avere praterie per zone centrali dell'area di rigore. Il lato positivo invece è che teniamo veramente tanto all'interno dell'area di rigore portiamo tanti uomini dovuto anche poi al centrocampo che abbiamo e sfruttiamo molto bene quella zona lì che è quella dove si fa più male alle squadre avversarie. Quindi questo era 4-1-3-2 Invincible. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete. Noi ci vediamo in questo video. in questo video mi è che lei è bella rica.